La mossa segreta di Polpetta! Ecco una mossa di Miao Fu che può salvarvi! Se una calapia gatti tenta di afferrarvi, fatela rovesciata da urlo! Miao! Visto? È semplice, Lampo! Perché non provi? Bravo, Lampo! Tocca... Tepilu! Così va bene, Milady! Pilu, l'urlo ti riesce benissimo! Devi solo lavorare sulla rovesciata! Polpetta, è arrivato il tuo turno! Non ce la faccio, Milady! Il mio sederino è troppo grosso! Il tuo sederino è forte! Puoi fare un attacco sederino volante! Volante? Io riesco a malapena saltare! Coraggio, Polpetta! Provaci! Salta! È tanto sederino volante! Non mi sono fatto male per niente! Io sì, però... Micetti! Sono a casa! È ora di provo! Oh! 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 Micetti! Sapete, tornando a casa, ho trovato dei bellissimi... Baffi fiori! Oh! Meravigliosi! Senti il profumo? Oh! Sono stata molto fortunata a trovarli e per questo devo ringraziare... Oh! Il mio ciondolo porta fortuna! Oh no! L'ho perso! Oh no! E sono in ritardo per il compleanno della mia amica Peppina! Oh! Dovrò cercarlo più tardi! Dobbiamo ritrovare il ciondolo! Ma come possiamo fare, Milady? Potrebbe essere ovunque! Non preoccuparti! I miei Baffi ci porteranno dritti dal ciondolo! Deve esserle caduto quando ha raccolto i fiori! Andiamo, Baffi Katz! Quel ciondolo sarà nostro! Avanti, seguiamoli! Dei qua, Baffi Katz! Ehi, Lampo, ma dove stiamo andando? I miei Baffi mi dicono che il ciondolo si trova da qualche parte dove crescono i fiori! Ehi! Andiamo verso il fiume! Oh no! Come il fiume! Berti la calappia gatti si nasconde lì per catturare i gatti randagini! Oh! Proprio fame di spaghetti e polpette! Questo significa pericolo! Sì, perché il fiume fa tanta paura! Però facciamo molta più paura noi due! Blister e Scab! Sì, lo sappiamo chi siamo! Allora, la vostra umana ha perso il suo ciondolo portafortuna! Vi aiuteremo noi a trovarlo! Davvero? Non è vera una bugia! Certo! Chi lo trova lo tiene! Oh, e chi perde piange! Stai attento! È ancora rosso! Oh no! Stanno scappando via! Mi è appena venuta una bella idea! Mioow! 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 Scusa, Lappo! Ma cosa stai facendo? Cerco di chiamare Igor! Dovrebbe abitare da queste parti! Hai ragione! Lui è il gatto più forte del quartiere! Eccola lì! Ciao, Buffy Cats! Igor, sentite un vostro richiamo miagolante. Serve aiuto? Ehi, ciao, Igor! Ci vediamo al fiume! Esatto! Abbiamo bisogno della tua super catapulta! Fidarsi di Igor! Sempre fidarsi di amico Igor! Grazie mille, Igor! Dai, vieni con noi! Mi sta venendo proprio fame di spaghetti e polpette! Pericolo! Ma io qui non vedo né blister né scab! Oh, no! Forse hanno già trovato il ciondolo portafortuna della nonna! No! I miei Buffy dicono che il ciondolo è da quella parte! Ma dov'è? Il ciondolo portafortuna della nonna! Bravo! Sono io il fortunato! Ho proprio tanta fame di spaghetti e polpette! Aspetta! C'è un pericolo più grande! E dov'è? Perdi la caccia, la caccia! Non ho fatto in tempo, amici! Avrei dovuto usare il mio attacco sederino! Miau, 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 forse significa che Berti è più forte e furbo di qualsiasi gatto! Io non capire come aprire Tenaglia! Polpetta! Pronto a essere coraggioso? Oh! E io non sono sicuro! Mi fa paura essere coraggioso! Oh! Presa! Polpetta! Devi fidarti di attacco sederino! Eh, d'accordo! Allora ci provo! Orra correre veloce! E il mio attacco sederino ha funzionato! Il ciondolo! Questa sì che è fortuna! Ho preso il ciondolo! Ehi, dov'è scappato? Andiamocene via alla svelta! Finalmente sono riuscito a catturarvi! Siete pronti ad entrare nelle mie gabbie di lusso? Aiutateci! Usiamo il bastone per salvarli! Oh! Oh, mamma gatta! Fermo! Polpetta ha troppa paura! Guardate! Beh, certo che ha paura! Ma loro ne hanno molta di più! Aiuta! Per favore! Devo salvarli subito! Attacco sederino! Igor oggi è molto orgoglioso di polpetta! Guarda, Pilù! Ci penso io! Sei così dolce! Afferrate la mia zampa! E adesso dovete darci il ciondolo portafortuna! Cosa? Ma vi abbiamo salvato! È grazie al mio attacco sederino! Già! Ora sono talmente confuso! Vorrei essere cattivo con voi, ma vorrei anche... Ringraziarvi! Oh, è vero! È difficile scegliere! Domani saranno cattivi di nuovo! Ah! Adesso ho capito! Polpetta! Sei stato un vero eroe! Sì, molto coraggioso! Non mi sono fatto male! Il mio sederino è molto forte e coraggioso! E ricoperto di fango! Grazie per averci aiutato! Igor, sempre felice di dare zampa ai baffi, Katz! Da Svedania! Ciao, Micetti! Immagino siate tutti affamati! Il mio ciondolo portafortuna! Allora è sempre stato qui! Oh, sono veramente fortunata! Un momento! Il mio ciondolo non l'avete trovato voi! Vero, Micetti? Che idea assurda! Voi siete solo dei Micetti! Non potete capire quello che dico! Non è vero? Siete dei piccoli pasticcioni! E io vi voglio tanto, tanto bene! Oh no, Polpetta! Come hai fatto a sporcarti così? Ti farò un bel bagnetto! Ma prima doppia razione di pappa per te! Iscriviti al canale!